Buonasera a tutti, bentornati nei nostri mercoledì scienza. Questa sera sentiamo l'ultimo del conferenza di questo ciclo sui robot da mare o robot da mare. Sarà il professor Giovanni Indiveri che ci parlerà di robot sottomarini per studiare l'ambiente. Vi dico due parole sul professor Indiveri. Ha conseguito la laurea in fisica e poi un dottorato di ricerca in ingegneria elettronica e informatica presso l'Università di Genova. È stato ricercatore postdoc presso l'Istituto Fraunhofer per i sistemi autonomi intelligenti in Germania. Ed è stato ricercatore in automatica presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università del Salento a Lice. Poi sempre la stessa università è stato anche professore associato in automatica occupandosi in particolare di robotica marina e robotica mobile. È stato responsabile scientifico dell'Unità di ricerca dell'Università del Salento del Centro Interuniversitario di Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino. Dal dicembre 2019 è professore associato nel settore scientifico disciplinare di ingegneria automatica presso l'Università degli Estudi di Genova ed è componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro del Mare della nostra Università in rappresentanza del Dipartimento di Ibris. Dal marzo del 2021 è direttore del Centro Interuniversitario di Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino. Ha contribuito ai comitati di programma internazionale di ben oltre 70 conferenze internazionali in robotica, ingegneria dei sistemi e dei controlli e ha partecipato a numerosi progetti finanziati sia a livello nazionale che internazionale. I suoi interessi di ricerca riguardano l'area della robotica autonoma, in particolare della navigazione, della guida e del controllo del movimento per i sistemi robotici, marini e sottoattuati. Nel lasciarvi alla sua interessante conferenza vi preannuncio che il prossimo mercoledì 12 maggio, sempre con partenza alle ore 17, inizierà un nuovo ciclo di conferenze, questa volta sarà sul mare, quindi dal titolo Mare Scienza, e riguarderà lo studio, la ricerca e la salvaguardia dell'ambiente marino. Vi lascio adesso la bella conferenza del professor Indiveri. Arrivederci, buon ascolto e buona visione. Allora, buongiorno a tutti. Io sono appunto Giovanni Indiveri, come dalla presentazione appena fatta della dottoressa Pusillo, che a mia volta ringrazio molto. Sinceramente è un onore essere stato invitato a tenere questo seminario e spero di essere all'altezza e di suscitare l'interesse. Il titolo è stato appunto già anticipato e comunque visibile su questa slide. Io sono un docente del Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica, Ingegneria dei Sistemi, il DIBRIS dell'Università di Genova, e i risultati e le applicazioni che vi racconterò oggi sono per la maggior parte ottenuti, sono studi e risultati ottenuti nell'ambito della ricerca svolta da ISME, che è un acronimo che sta per Integrated Systems for the Marine Environment, cioè Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino. Questo centro di ricerca interuniversitario appunto ospita diciamo nove atenei e coordina le attività che questi nove atenei sviluppano in ambito appunto di robotica marina e di ingegneria oceanica in generale. È un'istituzione che esiste dal 1999, quindi ormai piuttosto consolidata, e come vedete in questa slide, le sedi sono distribuite un po' su tutto il territorio. Il motivo per cui un centro di ricerca come questo ha senso e anzi è utile è perché, come cercherò di illustrare nella conferenza, la robotica marina è una specializzazione della robotica molto molto speciale, che richiede non solo competenze di vario genere, e questo è un po' comune a tutta la robotica, che è una disciplina appunto interdisciplinare, in realtà è una scienza interdisciplinare, ma anche richiede, la robotica marina, anche un certo sforzo dal punto di vista della strumentazione, delle infrastrutture e proprio del numero di persone che collaborano agli esperimenti per via della loro complessità e del loro impatto dal punto di vista proprio operativo. Gli aspetti operativi così importanti nelle applicazioni di robotica marina sono tra quelli che hanno motivato e giustificato un accordo tra i tanti che ISME ha con varie istituzioni, un accordo che abbiamo da, se non ricordo male, dal 2015 con la Marina Militare Italiana, in particolare con il Centro per il Supporto e la Sperimentazione Navale, CSSN, di La Spezia. Quella illustrata in questa foto è una foto aerea appunto del sito dove si trova il CSSN e in alcune di queste palazzine è ospitato un laboratorio congiunto che si chiama SILAB con il quale anche ISME può avere un accesso al mare importante. L'accordo con la Marina è rilevante perché non solo possiamo come ricercatori interfacciarci con i ricercatori appunto della Marina, quindi avere supporto dal punto di vista proprio scientifico e tecnologico e avere uno scambio culturale diciamo su questo versante, ma in aggiunta a questo c'è anche tutta la parte operativa, l'operatività e le capacità sperimentali che la Marina ha per i suoi compiti istituzionali, insomma, e che invece nei laboratori universitari sarebbe molto più complicato avere. La conferenza è organizzata su quattro macro punti, quindi un'introduzione alla robotica, un dettaglio un po' più specifico di quali siano le caratteristiche della robotica Marina e una descrizione di alcune delle applicazioni più significative, prima appunto di concludere. L'introduzione ai robot cercherò di farla quanto più sintetica possibile, anche perché questo seminario è inserito in un contesto di altri seminari che hanno già ampiamente contribuito diciamo a dare un'introduzione generica. e quindi per partire invece direttamente con le applicazioni più nostre vorrei illustrare un video che racconta un progetto terminato qualche anno fa nel 2020, quindi piuttosto recente, e che ha visto come protagonisti le istituzioni e le industrie elencate in questa slide. Tra queste appunto il nostro centro Isme. Questo progetto riguardava un'applicazione di mineraria subacquea, quindi l'idea di sfruttare i giacimenti di materiali nobili e preziosi come i noduli di mangranese, per esempio, che si trovano sul fondo del mare. Non è un'idea nuovissima e non è neanche un'idea specificatamente legata alla robotica, ma la robotica può supportare a realizzare quest'idea in maniera sicuramente più sostenibile dal punto di vista ambientale, perché le tecniche tradizionali consistono nell'andare un po', fatemi dire, astrascico, per usare un termine poco tecnico, ma che rende l'idea nel raccogliere questo materiale che si trova sul fondale, mentre queste tecnologie robotiche permettono di andare sul fondale e campionare le singole rocce che si trovano e eventualmente decidere quali raccogliere ed eventualmente come. Il video illustra questo progetto nel suo insieme e faccio un commento appunto a voce. Io questo che vedete in questa immagine è un veicolo robotico di classe ROV, sta per Remotely Operated Vehicle, R-O-V, ne parlerò in maniera più diffusa dopo, è una classe di veicoli usati per andare a profondità più importanti. Nel progetto Robust era previsto l'uso di uno di questi ROV per andare a profondità fino a di qualche migliaio di metri, la profondità diciamo obiettivo erano 6.000 metri addirittura, e equipaggiare un veicolo di questo tipo con dei sensori per trovare i noduli, quindi le rocce di interesse, e analizzarle in sito. Questa animazione che vedete riguarda un secondo tipo di veicolo più piccolo e autonomo, quindi non dotato di cavo. Questo veicolo è stato effettivamente realizzato durante il progetto, nel video c'è un'animazione perché è stato fatto in realtà prima della fine del progetto, ma è praticamente identico a questo che vedete nell'animazione. Questo veicolo era progettato per scendere sul fondo e con una tecnologia ottica che vedete si doveva caratterizzare la roccia e poi farne un'analisi fisico-chimica con un laser, che è quello rappresentato ora nel video, quindi una sorta di spettroscopia di massa che permettesse di capire qual è il contenuto di metalli e quali metalli sono contenuti nel modulo stesso. Il veicolo che avete visto poco fa appunto è capace di raggiungere profondità solo di qualche centinaia di metri, per andare a profondità più importanti servono veicoli più pesanti come quello appunto illustrato invece in quest'altra immagine. Ma la tecnologia è la stessa, quindi si va con un veicolo più performante dal punto di vista meccanico sul fondo e si fa questa analisi in situ delle caratteristiche chimico-fisico e dei materiali. Questa è stata un'applicazione molto innovativa perché i sensori laser per fare questa analisi al giorno d'oggi non esistono, diciamo, per essere operati sott'acqua. Questo era solo per farvi vedere un esempio di possibile applicazione recente che abbiamo seguito come ISME, ma naturalmente ce ne sono molto altre. Allora, il protagonista di questa operazione era un robot. Che cos'è un robot? Questa che vedete in questa slide è in questa trasparenza è una definizione molto personale, quindi non va presa come così, come troppo condivisa dalla comunità scientifica. È un po' quella che io ritengo essere la definizione del robot. Cioè è un dispositivo artificiale che acquisisce, elabora e genera informazioni attraverso e durante operazioni in movimento. Quindi in buona sostanza, a mio modo di vedere, un oggetto che chiamiamo robot è un dispositivo appunto artificiale che coniuga due ambiti, due capacità, diciamo, abbastanza diverse tra loro, ma assolutamente fondamentali entrambe. Cioè l'aspetto cibernetico, quindi legato all'elaborazione delle informazioni, e l'aspetto di gestione del moto, quindi la capacità di muoversi nell'ambiente in maniera, diciamo, opportuna, dove opportuno significa sufficientemente articolata da supportare le funzioni cibernetiche del sistema stesso. Allora l'idea che in uno stesso dispositivo coesistano e si complementino le capacità sia cibernetiche con quelle di controllo del moto è la chiave per spiegare l'unicità, diciamo, della robotica nel panorama delle nuove tecnologie e anche di quelle informatiche. Questa è una mia convinzione profonda e si manifesta poi questo connubio tra gli aspetti cibernetici e quelli di controllo del moto si possono manifestare in moltissimi ambiti e ambienti diversi. Quello marino, rappresentato da questa figura, è sostanzialmente caratterizzato da veicoli che possono essere di natura diversa e qua ne vedete alcuni esempi. In alto a sinistra vedete dei veicoli che appartenenti a una classe che si chiama AUV, Autonomous Underwater Vehicles, cioè veicoli autonomi e subacquei. Sono veicoli in genere siluiformi, quindi con una forma appunto affusolata e non hanno collegamenti fisici con la superficie, con la stazione di comando. Non hanno quindi cavi che li collegano in superficie. La loro alimentazione deve essere assicurata da batterie che sono a bordo e questo tipo di oggetti è progettato per navigare, per muoversi in generale su ampie zone a velocità relativamente sostenute. Per contro, nell'immagine di destra, vedete un ROV, come quello visto nel video poco fa, ovvero un veicolo appunto operato in remoto e vedete che ha un cavo, questo cavo giallo che si vede qui sulla sinistra, è detto anche l'ombelicale e questo cavo collega il veicolo stesso alla stazione di comando in superficie che può essere una nave o una piattaforma o può essere anche la terraferma se si lavora sufficientemente vicino alla costa. Quel cavo porta o dati e basta, questo è il caso in cui l'energia sia fornita a bordo con le batterie, o più spesso quel cavo trasporta sia dati, quindi comandi e letture dei sensori, ma trasporta anche energia e quindi questi veicoli, avendo una sorgente di energia dalla terraferma, diciamo, dalla superficie, hanno un'autonomia pressoché infinita, nel senso che se li collegate a una sorgente di energia continua possono operare per tempi anche molto lunghi. Per fare un'analogia, diciamo, un po' spinta, ma che forse rende l'idea, io suggerisco di pensare i primi, gli AUV, come l'equivalente, diciamo, degli aeroplani, nel caso aereo, e i ROV li possiamo pensare un po' come se fossero degli elicotteri. Quindi l'elicottero è un veicolo che si muove a velocità relativamente bassa in zone limitate e con un controllo del moto, diciamo, piuttosto fine. La manovra per eccellenza dell'elicottero è quella di fare l'overing, cioè di stare fermo, di rimanere sospeso senza traslare o senza muoversi con alcuna velocità. Questa capacità di manovra gli permette di fare operazioni di soccorso, di salvataggio, di trasporto, diciamo, lungo la verticale. Per contro, però, hanno questi veicoli una capacità di muoversi su ampie zone più limitata rispetto a un aeroplano. L'aeroplano, invece, cosa fa? Si muove a velocità sostenute e su percorsi, in generale, molto più lunghi di quelli di un elicottero. Ecco, bene, gli AUV sono l'equivalente degli aeroplani da questo punto di vista e i ROV sono gli equivalenti degli elicotteri. I ROV vengono impiegati, per esempio, in operazioni di recupero di oggetti dispersi, comprese le scatole nere, per esempio, degli aeroplani quando hanno un incidente. Naturalmente, bisogna già sapere dove si trovano, ok? E quindi, sapendo dove si trovano, un ROV può scendere e recuperarla, nel senso, con dei manipolatori, proprio riportarla in superficie. Oppure, sono utilizzati per operazioni di manutenzione, di saldatura, di riparazioni meccaniche, o per acquisire immagini, magari, appunto, in zone molto specifiche, muovendosi a velocità molto basse. Gli AUV, per conto, si muovono su, appunto, percorsi in generale molto grandi e acquisiscono dati anche immagini, ma più che altro immagini acustiche, di cui diremo qualcosa più avanti, o profili di salinità, temperatura e altri parametri chimico-fisici che possono servire a caratterizzare la qualità delle acque, per esempio. queste due classi di veicoli, quindi le due immagini in alto, operano in maniera completamente sommersa, quindi operano sott'acqua, a differenza delle barche autonome, come quella in basso a destra, che è un prototipo sviluppato da ISME, dalla sede di Genova di ISME, in particolare, un catamarano, un catamarano robotico, quindi che naviga senza equipaggio a bordo, quello che vedete in quell'immagine, si chiama Ulisse, è un prototipo di circa tre metri di lunghezza e poco meno di due metri di larghezza, ha due scafi, ovviamente, come tutti i catamarani, un ponte che li collega, su cui si può, come vedete qui, poi ne parlerò più diffusamente dopo, si possono alloggiare della strumentazione che cambia a seconda della missione che deve svolgere. Il catamarano ha due motori elettrici, sono questi due grigi che si vedono nella parte posteriore, non ha timoni, per cui la direzionalità viene comandata azionando questi due motori in maniera differenziale, un po' come i cararmati, se il cingolo di destra va più in fretta di quello di sinistra, si gira verso sinistra e viceversa. E qui succede la stessa cosa, ci sono due motori eliche a seconda di quanto vengono diversamente azionate, si possono ottenere moti in linea retta o curve di vario genere. Nell'immagine a sinistra, ecco, scusate, sui catamarani e sui veicoli di superficie vorrei solo dire che a differenza di quelli subacquei, questi sistemi godono di un grande vantaggio perché hanno accesso almeno in parte all'atmosfera, cioè stando in superficie appunto, è possibile accedere ai canali di comunicazione in radiofrequenza che invece sott'acqua non sono accessibili. Quindi una grande e molto specifica caratteristica della robotica sottomarina è che sott'acqua non si propagano le onde elettromagnetiche o meglio, si propagano in maniera estremamente attenuata e tutte le tecnologie più note anche quelle che usiamo nella vita quotidiana come il GPS o il Wi-Fi sott'acqua non funzionano se non per distanze dell'ordine dei millimetri o dei centimetri quindi di fatto non sono utilizzabili come le utilizziamo in aria. Il fatto che sott'acqua le onde elettromagnetiche non si propagano è il motivo stesso per cui sott'acqua c'è buio perché anche la luce come onda elettromagnetica si propaga con molta più fatica diciamo di quanto non faccia in aria e quindi scendendo anche di pochi metri sotto la superficie dell'acqua c'è una carenza di luce quasi totale o comunque molto rilevante rispetto rispetto all'atmosfera. Ecco l'assenza di segnali elettromagnetici di segnali radio per le comunicazioni per acquisire dati con il Wi-Fi per esempio o per acquisire diciamo informazioni sensoriali come il GPS sono le specificità tra le specificità più importanti di operare sott'acqua. Un catamarano avendo almeno metà diciamo del suo volume se non di più in aria un catamarano o comunque un robot di superficie che si muove sulla superficie dell'acqua e non completamente sommerso questo problema lo ha in misura minore perché appunto la parte in atmosfera può accedere al canale di comunicazione in radiofrequenza solito quindi da questo punto di vista c'è un piccolo vantaggio dicevo l'ultima tipologia di veicoli che sono dei prototipi di ricerca sono meno mentre i primi tre che sono illustrati qua che ho citato sono usati in maniera anche importante nell'industria nelle applicazioni anche più più pratiche non solo nella ricerca pura c'è una classe di veicoli cosiddetti robot biomimetici che appartiene ad oggi più a una sfera appunto di ricerca e sono tutti quei sistemi robotici marini progettati in qualche maniera pensando all'equivalente naturale quindi ci sono robot pesci robot polpi robot mitili ce ne sono veramente di molti tipi diversi questo perché la natura suggerisce delle forme e delle soluzioni diciamo al problema del moto e della navigazione che sono ovviamente molto interessanti e quindi molti ricercatori hanno cercato di sfruttare il parallelo da questo punto di vista bene questi tipi di robot che vi ho fatto vedere in acqua sono la controparte appunto marina di robot fatemi dire autonomi che esistono ovviamente anche in aria o per terra quindi qui volevo solo far passare l'idea che c'è un filo conduttore comune con la robotica autonoma anche spaziale e terrestre quello che non è comune è la specificità dell'ambiente ok è la la presenza dell'acqua che rende le soluzioni tecnologiche sia proprio pratiche sperimentali sia in alcuni casi quelle metodologiche quindi quelle concettuali un po' diverse perché appunto si ha a che fare con una situazione ambientale molto specifica detto questo l'esigenza di avere mezzi autonomi che esplorano senza uomini a bordo l'ambiente è invece molto prossima a quello che succede in aria o in terra ovviamente esistono anche molti altri tipi di robot di molti di questi tipi è stato detto negli altri seminari quindi io su questo vado un po' più celermente tra i vari robot esistenti ci sono ovviamente anche quelli industriali i cosiddetti manipolatori che sono noti da un tempo piuttosto lungo perché dagli anni 50 del secolo scorso in pratica che vengono utilizzati anche nelle applicazioni industriali e come vedrete e come avete già visto in parte nel video che ho illustrato anche sott'acqua si può beneficiare di avere un manipolatore che opera da una piattaforma autonoma tutti questi sistemi che vi ho illustrato se riflettete un attimo alla definizione che ho dato inizialmente soddisfano quella definizione cioè tutti i sistemi robotici che ho anche velocemente passato in rassegna coniugano una parte cibernetica con una parte diciamo di gestione del moto poi ci sono invece altri oggetti che a volte chiamiamo robot ma che in realtà non soddisfano quella definizione lo volevo mettere in evidenza perché mi sembrava così simpatico anche se forse non è particolarmente significato diciamo importante rilevante per esempio i robot da cucina non sono dei veri e propri robot rispetto alla definizione che abbiamo dato prima perché certamente hanno una complessità e hanno diciamo una gestione delle parti in moto importante ma sono carenti di tutti gli aspetti cibernetici almeno i robot da cucina quelli più semplici quelli più elementari quindi dal punto di vista di quella diciamo di quella definizione o di quell'ambizione di chiamare un robot nel modo che più ho illustrato prima questi non lo sarebbero d'altra parte nella comunità scientifica invece ci sono esempi di cosiddette robot piante che hanno al contrario dei robot da cucina una profondissima e sviluppatissima parte cibernetica quindi sono dei dispositivi che dal punto di vista dell'elaborazione delle informazioni e dal punto di vista dell'elaborazione anche dei dati sensoriali sono assolutamente all'avanguardia e molto sviluppati ma hanno una parte diciamo di mobilità molto ridotta se non del tutto assente come le piante vere d'altra parte quindi anche questi prototipi che pure sono descritti nella letteratura robotica in realtà non soddisfano quella definizione così come ci sono oggetti che in base a quella definizione sono robot ma non lo sanno oppure non lo diciamo noi l'esempio è il satellite spaziale i satelliti spaziali non li chiamiamo satelliti non li chiamiamo quasi mai robot ma in base appunto a quella descrizione che davamo prima sono dei robot a tutti gli effetti perché coniugano certamente e in maniera anche molto rilevante sia gli aspetti cognitivi cognitivi e cibernetici più che cognitivi volevo dire cibernetici quindi di elaborazione di trasmissione di acquisizione delle informazioni e sia gli aspetti di gestione del moto che anzi sono raffinatissimi nelle applicazioni spaziali che hanno una complessità da questo punto di vista molto liberale quindi sono a tutti gli effetti dei robot ma per motivi storici o motivi così di uso e costume noi non li chiamiamo non li chiamiamo tali allora ne facevo già un cenno prima cosa ha di speciale la robotica marina e beh banalmente la presenza dell'acqua l'acqua diciamo occupa un volume una superficie molto rilevante del nostro pianeta il 70% del pianeta è ricoperto dalle acque e se ci pensate questa è una percentuale estremamente grande come se in un appartamento di 100 metri quadri 70 fossero di acqua il fatto che questa porzione diciamo di pianeta così grande sia studiata relativamente poco e che ci siano quindi anche dal punto di vista tecnologico investimenti tutto sommato abbastanza limitati se confrontati con altri ambiti è un fatto abbastanza notevole secondo me è una riflessione su questo credo che sia utile anche da parte del pubblico generale non solo degli addetti ai lavori allora per capire con un esempio concreto cosa si può fare in acqua con delle tecnologie robotiche che altrimenti non si può fare vi propongo un altro video di un progetto finito nel 2018 si chiamava We Must come è illustrato in questa slide Widely Scalable Mobile Underwater Sona Technology vuol dire tecnologia sonar subacquea a grande scalabilità in pratica questo è un progetto che ho coordinato io stesso per conto di Isme quando ero ancora all'Università del Salento io sono all'Università di Genova solo dal 2019 però anche stando all'Università del Salento ero già componente di Isme e per conto di Isme appunto ho coordinato questo progetto che mirava a sviluppare una tecnologia estremamente innovativa per l'acquisizione geotecnica robotizzata allora vi faccio vedere il video e poi magari lo completo subito dopo Il progetto europeo di robotica subacquea We Must supportato da Horizon 2020 diretto da Isme di Genova e coordinato da Giovanni Indiveri dell'Università del Salento entra nel vivo in questi giorni gli studiosi hanno finito di analizzare i dati raccolti durante l'esperimento preliminare di integrazione che si è svolto a fine novembre scorso a Sines in Portogallo e l'esito è più che positivo Il sistema di acquisizione acustica e di navigazione dei robot marini intelligenti e cooperativi funziona annunciano con soddisfazione dal team di We Must pur evidenziando che esso è perfettibile di ulteriori miglioramenti La raccolta dei dati è stata effettuata con successo di streamers montati sulle due tipologie di veicoli che stiamo adoperando continuano gli esperti Folaga e Medusa ci hanno consentito di acquisire i dati sismici e funzionali che cercavamo Il sistema di comunicazione e controllo del moto è stato testato solo in superficie per ora e ha avuto l'esito sperato Possiamo dirci quindi più che soddisfatti di questo esperimento preliminare spiegano gli esperti Il fatto che i robot marini siano stati messi alla prova solo in superficie è un primo e necessario step per la creazione della squadra di robot sub cooperativi La visione alla base di We Must è quella di sviluppare sistemi avanzati di controllo cooperativo per consentire ad un gran numero di robot marini di interagire attraverso la condivisione di informazioni come un vero e proprio team Tutto pronto dunque per l'importante revisione europea che si svolgerà in Francia a marzo e alla quale Giovanni Indiveri e i suoi colleghi che lavorano nel progetto sono pronti a partecipare per mettere in luce la qualità della ricerca che stanno portando avanti Allora in pratica il video è stato girato più o meno a due terzi dalla fine del progetto quindi ha descritto risultati appunto parziali non del tutto definitivi posso dirvi che poi il progetto è finito nel 2018 in maniera molto positiva nel senso che siamo riusciti effettivamente a realizzare tutto quello che era previsto in cosa consisteva e in cosa consiste questa tecnologia allora in pratica nel fare una sorta di ecografia del fondale con un mezzo robotizzato allora cosa intendo per ecografia è quella che si chiama esplorazione geotecnica o geofisica più propriamente e è una tecnologia in realtà molto consolidata e molto nota da sempre da diversi decenni almeno e consiste nel illuminare il fondo del mare con un suono di potenza molto alta e di frequenza bassa questo suono viene generato con dei generatori appunto che possono essere o delle air guns cioè delle pistole ad aria sono dei dispositivi che fanno scoppiare diciamo delle bolle d'aria che producono poi un suono molto potente oppure con degli sparker che sono quelli che usavamo noi lo sparker è un generatore di fulmini in qualche maniera artificiale cioè è un oggetto che fa scoccare una scintilla sott'acqua in realtà ne fa scoccare moltissime piccoline che però sono sincronizzate quindi è come se fosse una scintilla molto grande e questa scintilla che appunto viene fatta scoccare sotto il pelo dell'acqua produce una sorta di esplosione e questa esattamente come quella che fa l'air gun fa propagare un suono molto potente e di frequenza bassa che attraversa tutta la colonna d'acqua fino a raggiungere il fondale si riflette dal fondale ma in parte viene anche assorbito dal fondale quindi diciamo questo suono penetra anche negli strati più profondi del terreno che sta sotto il fondo e poi viene riflesso dagli strati geofisici sottostanti in maniera diversa a seconda proprio della composizione quindi se c'è sabbia se c'è ghiaia se c'è roccia se c'è un giacimento di petrolio o una bolla di gas ecco tutte queste diverse possibilità incidono sul modo con cui l'onda viene riflessa come si fa a misurare la riflessione? si equipaggiano le navi e la tecnologia tradizionale funziona così una nave trascina dietro di sé due sorgenti acustiche queste sorgenti acustiche sparano diciamo emettono questi suoni che abbiamo detto e i riflessi tornano dal fondale la nave stessa trascina dei grandi cavi che vengono chiamati streamers forse sono stati nominati anche nel video e sono in pratica dei cavi lungo i quali si installano degli idrofoni sarebbero dei microfoni subacquei distanziati a una distanza costante l'uno dall'altra che può essere dell'ordine del metro o un parente nelle applicazioni navali quindi quando questi streamer vengono equipaggiati vengono trascinati dalle navi questi cavi con gli idrofoni possono raggiungere lunghezze enormi neanche delle decine di chilometri tant'è una curiosità che le navi che trascinano gli streamer sono tra gli oggetti più grandi mai messi in movimento sul pianeta Terra cioè non c'è nulla di più esteso di artificiale che si muova sulla Terra questo per darvi un'idea di quanto siano anche rilevanti diciamo dal punto di vista logistico e pratico queste infrastrutture questi idrofoni acquisiscono quindi le onde sonore di ritorno e i geotecnici sono in grado di ricostruire la stratigrafia del fondo quindi di capire di modellare la struttura del fondale e quella sottostante il fondale stesso misurando sostanzialmente la differenza di tempi tra l'istante in cui l'onda è partita dalla sorgente e il tempo diciamo in cui è tornata a un certo idrofono quindi la misura fondamentale da fare è una misura di ritardo temporale e quindi capite che è fondamentale che la sorgente e i singoli idrofoni siano sincronizzati cioè abbiano un orologio comune in modo tale che si possa capire in maniera precisa la differenza temporale tra questi segnali inoltre è ovviamente anche fondamentale che si sappiano localizzare quindi georeferenziare la sorgente e i singoli idrofoni durante questo meccanismo di acquisizione ecco quella tecnologia tradizionale che funziona la possiamo pensare come se i cavi degli idrofoni costituissero un'antenna diciamo un'antenna acustica ora capite che l'antenna acustica generata con questi cavi ha una geometria fissa perché una volta che io trascino il cavo e gli idrofoni sono a una certa distanza tra di loro tutti i parametri geometrici che determinano come è fatta questa antenna sono congelati al contrario è spesso utile dal punto di vista proprio dell'efficacia con cui si fa questa acquisizione sarebbe auspicabile sarebbe utile poter cambiare la geometria dell'antenna quindi portare alcuni idrofoni più vicini tra di loro o al contrario distanziarli tra di loro oppure cambiare la profondità a cui questo pettine diciamo di idrofoni si muove per ottenere questo tipo di risultato l'idea del progetto WeMaster era quella di non far trascinare gli idrofoni dalla nave ma farli trascinare dai veicoli di tipo AUV da questi siluri autonomi ognuno aveva un suo streamer ovviamente gli streamer non erano lunghi chilometri ma erano lunghi solo una decina di metri ne abbiamo fatti due versioni la prima erano di 16 metri i secondi di 8 metri e gli streamer erano relativamente pochi perché noi abbiamo messo in acqua alla fine erano 8 veicoli in tutto credo che ci fossero 6 streamer nel caso dell'esperimento finale 4 o 6 non ricordo adesso precisamente e le sorgenti acustiche erano montate non sulle navi ma su questi catamarani autonomi e ne avevamo due uno era Ulisse di cui vi ho accennato prima e il secondo era un catamarano portoghese che si chiama Delphine uno dei problemi che abbiamo affrontato in questo progetto è che siccome gli AUV e i catamarani quindi gli idrofoni e le sorgenti erano disaccoppiate la sincronia degli orologi non poteva essere fatta diciamo con un collegamento fisico tra questi dispositivi questo ha molto condizionato diciamo le soluzioni tecnologiche da usare e per farla breve abbiamo risolto il problema usando dei clock atomici che sono dei dispositivi che hanno una precisione molto elevata per cui uno li sincronizza all'inizio della missione e poi per un tempo molto lungo la precisione della sincronizzazione rimane stabile ed è sufficiente per l'applicazione che ci serviva bene c'è un altro video in inglese che ovviamente salto ora avevo preparato una serie di slide su cui andrò molto molto rapidamente per spiegare per illustrare diciamo dal punto di vista meccanico qual è la specificità appunto di muoversi sott'acqua vi accennavo ci sono problemi molto diversi da quelli che ci sono in aria e in terra o nello spazio effettivamente è così lo confermo gli effetti più rilevanti che vanno gestiti quando si progettano dei sistemi robotici subacquei sono quelli elencati qua gli effetti inerziali gli effetti viscosi il fatto che esista la spinta di Archimede quindi gli effetti gravitazionali e di galleggiamento ed effetti legati alla pressione alcuni di questi sono più facilmente comprensibili e magari anche più noti altri lo sono forse un po' meno gli effetti inerziali sono forse tra quelli appunto meno noti e in cosa consistono detto in maniera molto semplice consistono nel fatto che quando un corpo si muove in un fluido denso la massa che bisogna accelerare di questo corpo non è solo quella del corpo stesso ma è anche in parte quella del fluido che lo circonda qui ho fatto un'analogia tra un corridore Pietro Mennea in particolare sulla destra e un nuotatore qual è la differenza macroscopica dal punto di vista degli effetti inerziali sul moto di una persona che corre in aria o che nuota in acqua e quello che corre in aria appunto applica una forza scambia una forza col terreno e sappiamo dalla legge di Newton F uguale a M A applicando questa forza la massa del corpo accelera all'accelerazione A ora se il corpo venisse accelerato nel vuoto effettivamente si dovrebbe parlare della massa del corpo e basta se il corpo viene accelerato in un fluido in realtà noi non acceleriamo solo il corpo ma acceleriamo in parte una quota parte dell'aria del fluido che ci circonda se non altro perché dobbiamo spostarlo per fare spazio al nostro stesso corpo quando camminiamo o quando corriamo ora perché in aria questo effetto è irrisorio o praticamente del tutto trascurabile perché il volume di aria che dobbiamo spostare ha una massa che è molto più piccola di quella del nostro stesso corpo quindi è vero che anche in aria c'è questo effetto di cosiddetto massa aggiunta si chiama però è un effetto praticamente del tutto trascurabile perché ripeto la quota parte di aria che va spostata che va accelerata ha una massa che è uno se non più di uno ordini di grandezza minore rispetto alla massa del corpo stesso attenzione non sto parlando dell'effetto del vento quella è tutta un'altra cosa le forze indotte dal vento sono effetti viscosi esistono pure quelli anzi li ho accennati anche prima ma sono un'altra un'altra fenomenologia l'effetto inerziale invece è quello per cui un nuotatore quando si sposta e quindi quando accelera il proprio corpo deve accelerare anche quota parte del fluido che lo circonda deve deve farsi un varco in qualche maniera e quindi viene accelerato anche una porzione di fluido il punto è che essendo il fluido denso l'acqua è densa una densità effettivamente confrontabile con la densità del corpo umano praticamente il volume di fluido che dobbiamo spostare ha una massa che è confrontabile addirittura a volte è maggiore della massa del corpo che si sta muovendo e quindi come si modella alla fine questo 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 fenomeno si modella come se la massa da accelerare fosse non quella del corpo di interesse il nuotatore ma avesse anche una cosiddetta massa aggiunta dal punto di vista matematico la cosa è complessa perché non è uno scalare non è un numero che va aggiunto ma è una struttura matematica un po' più articolata è un tensore in realtà la massa aggiunta una matrice che ha delle caratteristiche che dipendono dalla geometria del corpo e dipendono da tutta un'altra serie di fattori che non sto qui a discutere ma che insomma rendono questo modello abbastanza singolare abbastanza complesso è chiaro che ci tengo a precisare questi fenomeni non sono specifici della robotica la massa aggiunta è un fenomeno che gli ingegneri navali conoscono da secoli e che chiunque abbia a che fare con dinamiche di corpi in fluidi densi conosce molto bene quindi non è niente di specificatamente robotico però ecco se confrontiamo un robot che si muove in acqua rispetto a uno che si muove nello spazio o in aria questo è uno degli elementi che differenziano i modelli e in particolare che rendono quelli marini un po' più complicati gli effetti viscosi sono quelli invece legati all'attrito su questi magari dirò di meno l'attrito in aria spesso è positivo perché è quello grazie a cui il parapendio funziona e il paracadute funziona in acqua l'effetto viscoso anche così come in aria genera una forza diciamo frenante cioè genera l'attrito che si oppone al moto il problema è che l'azione frenante l'azione diciamo di di attrito esercitata dall'acqua è molto importante e questo è il motivo per cui i mezzi marini in generale si muovono a velocità relativamente basse rispetto a quelle che si possono tenere in aria o nello spazio i modelli matematici che descrivono questi effetti viscosi anche questi possono avere una loro complessità che poi incide sulle tecniche con cui si controlla il moto di questi veicoli la spinta di Archimede la conoscete tutti e la pressione la conoscete tutti quindi dirò su questo poco la pressione questa forza isotropa che si genera su un corpo sommerso e che motiva il fatto che questi corpi debbano essere meccanicamente molto robusti qualunque oggetto dove dovete mettere a profondità importanti sott'acqua deve poter resistere la forza della pressione ricordiamo che ogni 10 metri circa la pressione aumenta di un'atmosfera se teniamo conto che due atmosfere scarse sono il livello a cui si gonfiano i pneumatici di un'automobili capiamo che insomma bastano già due atmosfere per generare una forza molto molto importante e immaginiamo appunto quando si inizia a scendere di centinaia se non di migliaia di metri sott'acqua le forze di pressione che si sviluppano sugli oggetti che noi mettiamo a queste profondità sono assolutamente grandissime ora non è impossibile tant'è che i sommergibili e i robot subacquei esistono non è impossibile costruire dei manufatti che resistano queste forze di pressione usando materiali pesanti come i metalli e studiando geometrie opportune tipicamente tondeggianti diciamo per aumentare la resistenza alla pressione quello che però forse si pensa poco spesso è la importanza e l'impatto da un punto di vista ingegneristico della pressione sui galleggianti allora se noi vogliamo che un robot subacqueo abbia una spinta di Archimede confrontabile con il peso e quando sono proprio uguali si dice che il corpo il veicolo è neutro quindi lo mettete a mezz'acqua e sta fermo perché la gravità lo tira verso il basso la spinta di Archimede lo tira verso l'alto se le due forze sono bilanciate in maniera ideale in maniera precisa il corpo messo a mezz'acqua sta lì questo è vantaggioso perché io posso rimanere a mezz'acqua senza sforzo senza produrre energia non devo tenere le eliche accese in questo caso peraltro se c'è un meccanismo per cui ho un po' di zavorra e quindi la butto fuori un sistema neutro diventa in realtà positivo cioè va verso la superficie perché la spinta di Archimede a quel punto vince il peso se al contrario in camero dell'acqua per esempio il mio peso il peso del veicolo complessivamente con l'acqua incamerata diventa negativo e quindi io vado verso il fondo perché il peso supera la spinta di Archimede la spinta di Archimede com'è che viene prodotta viene prodotta perché la spinta dal basso verso l'alto coincide con il peso del liquido che viene spostato del volume del volume di liquido che viene spostato ora se il veicolo è di un materiale pesante per aumentare la spinta di Archimede cosa si fa tipicamente si riveste o si 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 rende solo in un veicolo si incolla al veicolo una parte di galleggiante cioè una una un volume di materiale si incolla al veicolo un volume di materiale che è leggero ma voluminoso questo perché essendo leggero contribuisce poco al peso essendo invece voluminoso contribuisce molto alla spinta di Archimede è un po' il principio della tavoletta per andare a muotare ci tiene a galla perché perché è grossa e leggera siccome è grossa sposta molta acqua e quindi diciamo ha una spinta di Archimede molto importante e però è leggera e quindi la gravità la tira verso il basso in maniera molto debole molto più debole di quanto non sia la spinta di Archimede quindi la tavoletta di polistirolo o il salvagente diciamo di polistirolo di materiale così leggero funzionano grazie a questo principio ora qual è il problema però se volete portare una tavoletta diciamo l'equivalente di una tavoletta per nuotare a profondità importanti a 20 100 anche 1000 o 5000 metri sott'acqua beh a quelle profondità la pressione potrebbe danneggiare questi materiali leggeri infatti il problema dei materiali leggeri ma voluminosi è che spesso sono molto fragili per cui portati a profondità importanti implodono quella che vedete qui è l'immagine di un ROV che ha un equipaggiamento di galleggiante molto importante tutta quella parte gialla è un materiale che deve essere molto leggero ma molto voluminoso proprio per non incidere tanto sul peso le parti pesanti comunque ci sono sono quelle metalliche e invece deve incidere sulla parte di spinta di Archimede questo veicolo se guardate le specifiche è tarato per funzionare tra i 3 e i 4 mila metri tra i 3 e i 4 mila metri ci sono centinaia di atmosfere di pressione quindi quel materiale giallo deve poter reggere una pressione equivalente a quella che si trova a quelle profondità in questa foto vedete cosa succede a una tazza di polistirolo se viene portata a 1500 metri di profondità vedete che implode quindi il suo volume si riduce in maniera trastica perché il polistirolo non è affatto resistente è certo leggero e voluminoso e quindi andrebbe benissimo come galleggiante e va benissimo se lo usiamo in superficie perché in superficie la pressione praticamente non c'è e se lo porto giù di qualche centimetro la pressione è molto piccola la tavoletta per nuotare se la porto anche sott'acqua appena appena non succede assolutamente niente ma se voi la portaste a profondità rilevanti di centinaia o migliaia di metri potrebbe succedere quello che vedete in questa immagine che è drammatico perché perché se la spinta diciamo il volume che garantisce la spinta di Archimede implode la spinta di Archimede viene meno e a quel punto il vostro veicolo si trova improvvisamente a essere pesante cioè a non avere il galleggiante che serve a farlo rimanere a mezz'acqua se il galleggiante implode il veicolo era neutro il galleggiante implode il veicolo andrà inesorabilmente verso il fondo con un rischio probabilmente non indifferente di perderlo questo veicolo quindi dal punto di vista ingegneristico uno non ci pensa o forse non ci si pensa molto spesso ma tutte le tecnologie dei materiali volte a generare volumi grandi con pesi ridotti nelle applicazioni subacquee sono fondamentali tant'è che il galleggiante che si usa per andare a quelle profondità è una delle parti più costose dei veicoli perché sono materiali molto speciali sono delle schiume sintetiche che vengono prodotte specificatamente per questo tipo di applicazione e hanno dei costi sia di sviluppo che poi di produzione importanti i veicoli di classe AUV come quelli illustrati in questa foto lì vedete un X300 di Graltec Graltec è una ditta di Genova in alto a sinistra è un AUV di classe X300 prodotto da questa ditta che si chiama Graltec con cui noi di ISME collaboriamo abbastanza diciamo regolarmente così come collaboriamo regolarmente con una ditta di Firenze MDM Team che ha sviluppato il veicolo in basso a destra che si chiama Zeno è anche lui un veicolo di classe AUV vedete non è siluriforme ma non è filo guidato quindi anche questo è un veicolo fatto per navigare sott'acqua anche questi veicoli diciamo sono progettati in maniera tale che la forza di Archimede bilanci la forza peso e anzi è anche possibile l'X300 per esempio ce l'ha che si implementino meccanismi attivi di gestione della zavorra in modo da poter calibrare il rapporto tra peso e spinta di Archimede ai fini proprio del controllo del moto allora volevo chiudere dicendovi di quali sono le difficoltà nel comunicare e nell'acquisire diciamo dati elettromagnetici un cenno a questo l'avevo già fatto quindi molto brevemente vi aggiungo soltanto che il mezzo alternativo alle comunicazioni elettromagnetiche è quello acustico quindi in acqua si fanno comunicazioni trasmissioni e acquisizioni anche di dati ambientali sostanzialmente per mezzo acustico esistono dei sonar che permettono di illuminare il fondo e con gli echidi che tornano di costruire immagini come accennavamo prima le tecnologie sono le più diverse ci sono i side scan ci sono i multi beam e ne vedete degli esempi in queste figure e questo è possibile proprio perché il suono in acqua si propaga invece meglio diciamo che in aria quindi con delle velocità superiori 1500 metri al secondo circa rispetto ai 350 circa dell'aria metri al secondo e su distanze anche molto rilevanti dell'ordine dei chilometri a parità di potenze utilizzate l'ultima su questo scio diciamo questa era un'immagine che ho messo qua per raccontare eventualmente quali sono le tipiche architetture dei sistemi di controllo per i robot ma il tempo è praticamente esaurito e quindi vorrei chiudere con un ultimo video che fa riferimento a un progetto Dexrob anche questo finito nel 2018 questo progetto mirava a pilotare un ROV di alta profondità evitando che il pilota stesso fosse all'altro capo dell'ombilicale io vedo l'ombilicale e il pilota tipicamente siede o a bordo nave o diciamo sulla piattaforma o diciamo si trova in una stazione dove arriva l'ombilicale del ROV per motivi operativi anche di diversa natura potrebbe essere invece molto rilevante dal punto di vista industriale permettere a un pilota di ROV di pilotare il ROV da remoto quindi via satellite quindi immaginate un pilota di ROV i piloti di ROV tra l'altro sono persone estremamente preparate qualificate pilotare un ROV ha una complessità enorme per cui i piloti sono pochi e sono molto preparati e devono essere diciamo dei professionisti la cui preparazione dura anche molto tempo anche anni e non sono professionalità così diffuse un po' come pilotare appunto un aeroplano a un elicottero non è che chiunque passi per la strada sia in grado di farlo in maniera semplice e che possa imparare in poco tempo e quindi l'idea che un pilota di ROV possa essere chiamato dalla sua stazione di comando in terra a pilotare un ROV che si trovi in un continente e subito dopo un altro ROV che si trovi in un altro continente dal punto di vista dell'applicazione è una tecnologia molto rilevante quindi in questo progetto si era cercato si è lavorato diciamo lo sviluppo di una tecnologia simile e tenete presente che però la comunicazione satellitare che mette in comunicazione il pilota con il veicolo ha delle latenze dei ritardi e controllare un veicolo con delle latenze è molto complicato per cui il sistema di controllo del robot quindi il livello di autonomia che il robot deve avere è particolarmente spinto qui parte un video che illustra qualitativamente diciamo il progetto anzi questo video non è quello magari lo commento io questo video fa riferimento a degli esperimenti che sono stati fatti nel 2017 degli esperimenti preliminari che non erano quelli proprio definitivi del progetto che però appunto erano funzionali a testare la tecnologia che vi dicevo che vi dicevo poco fa il rover è stato portato a largo con una nave che vedete in queste immagini il partner era un partner francese Comex che aveva questo sia il rover che la nave questo era un sistema artificiale che è stato sviluppato per permettere al pilota diciamo e al robot di fare delle operazioni col manipolatore una volta sommerso era una sorta di palestra diciamo e qui vedete le operazioni che sono state fatte ovviamente queste sono le immagini a bordo della nave proprio per fare il deployment cioè la messa a mare del sistema questo sistema anche lui ha avuto molto successo nel senso che ha funzionato la demo finale ha avuto molto successo e in questa slide che stavo illustrando prima ma ci sono i colleghi di ISME che hanno lavorato diciamo su questo progetto Paolo Di Lillo Gianluca Antonelli Vico Simetti e Francesco Vanderling gli ultimi due sono colleghi dell'Università di Genova e i primi due invece sono colleghi dell'Università di Cassino anch'essa parte di ISME per ulteriori informazioni e quindi chiudo ho messo qui il canale YouTube di ISME dove potete trovare un po' di video e in chiusura ci sono dei link a altre istituzioni e altri diciamo sorgenti di informazioni per chi fosse interessato il Woods Hole questo VOI è un sito degli stati un centro di ricerca americano che si occupa di robotica marina loro per esempio insieme all'IFREMER francese hanno appunto trovato il Titanic nell'85 usando precisamente dei ROV e quindi su questi link trovate del materiale che illustra anche questo evento qui sotto c'è il link a un laboratorio di colleghi portoghesi molto avanti in queste tecnologie con cui noi collaboriamo e infine in questa slide trovate un link per esempio all'istituto del CNR dell'ingegneria del mare che è un'altra delle eccellenze italiane in ambito di robotica marina anche con loro abbiamo rapporti di collaborazione abbastanza consolidati e diffusi in questo secondo link penultimo diciamo Eomarine Robotics trovate un elenco è un progetto diciamo molto recente di robotica marina europea che mette che ha come obiettivo quello di mettere in comune le infrastrutture robotiche marine dei vari paesi e alla sottopagina dei partners trovate un elenco abbastanza completo sebbene non esaustivo dei laboratori a livello europeo che si occupano di queste tecnologie e da ultimo vorrei citare il centro del mare dell'Università di Genova che è presieduto dal collega Michele Viviani sempre ovviamente dell'Università di Genova e che si pone l'obiettivo di coordinare e di diciamo promuovere tutte le iniziative legate al mare presso l'Università di Genova è un'iniziativa io trovo assolutamente importante e sta funzionando a mio modo di vedere piuttosto bene anzi direi molto bene ad oggi è un'iniziativa che è in piedi da un paio d'anni come ordine di grandezza e chi fosse interessato a conoscere anche le altre competenze le altre attività che sono numerosissime ad amplissimo spettro che l'Università di Genova declina in termini di mare ecco quello il sito è un buon punto di partenza per approfondire questo tema io ho chiuso vi ringrazio tutti ringrazio ancora la dottoressa Pusillo e l'associazione Amici dell'Acquario per l'invito e resto ovviamente a disposizione per comunque la necessità di ulteriori dettagli quello in questa slide è il mio indirizzo di email e posso essere raggiunto molto facilmente grazie 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 grazie